Francesco Oliviero vive l'IPO praticamente da sempre. Siamo alla decima edizione e stiamo celebrando un successo assolutamente clamoroso, vero? Vero, un successo incredibile perché questi numeri qua, 2492 giocatori, si vedono solo a Las Vegas, Jack. È una roba da brividi. Sì, roba assolutamente da brividi. Peraltro mi incuriosisce un po' scoprire qualche aspetto del fatto che molti sono quelli che poi vengono, tra virgolette, coccolati durante la settimana perché qui ci sono dei bellissimi tornei settimanali. Sì, qui fanno i tornei tutte le sere. Andrea e tutto lo staff sono bravi a farli venire tutti ai vari IPO. Diciamo che il IPO, che lo facciamo ogni quattro mesi così, è proprio un lavoro di quattro mesi, di tutte le sere, vari satelliti, informazioni a valanga. Dalla prima edizione che siamo partiti, mi ricordo con una saletta microscopica, che anche Andrea non ci credeva, avevamo 200 e qualcosa giocatori, abbiamo fatto per 10, proprio come l'IPO 10. È vero, tu peraltro svolgi questo ruolo importante, però mi dicevi che sei farmacista. Sì, io lavoro in farmacia da svariati anni e Andrea mi chiama quando c'è da fare questo evento e io corro. Ma come è nata questa passione, cioè trovarti tra le ricette di punti bianchi e dire adesso contiamo le ceppi e facciamo il dealer e via dicendo? Diciamo che questa è la passione del poker, è una passione che mi porto dietro da piccolino e che me l'ha fatta prendere mia mamma. Questa è una cosa che non ho mai detto, è la prima volta che lo dico. La passione del poker me l'ha trasmessa mia mamma, che purtroppo oggi non c'è più, però sin da piccolo giocavo con fish, carte, avevo 10 anni e mi organizzavo il pokerino con gli amici, non sapevo che cos'era. Non ci si giocava niente e mano a mano diciamo che è diventato il mio secondo lavoro. Beh comunque sarebbe contento di vedere che cosa sei arrivato a fare, questa professionalità e vedere che lo staff con cui lavori, oltre ad essere un gruppo di amici, è arrivato a ottenere questo risultato epocale. Esatto, lo staff è di primo ordine, è proprio quello che hai detto, è giusto che siamo tutti amici, cioè ci si diverte, quando ci si vede a Lipo ci si rincontra, perché tanta gente è di Roma, tanta gente è di Napoli, tanta gente arriva da Genova, ci si ritrova qui ogni 3-4 mesi. E la prossima cosa si combiniamo? La prossima, quello che so, dovrebbe essere una tappa estiva, vediamo, qualche cosa ci inventeremo. Ci prepariamo ciabatte, bermuda, poi stiamo un po' in riva al lago e ogni tanto andiamo lì. Esatto, di giorno siamo giù, la sera veniamo su. Grazie. 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 Grazie.